e che ha avuto poi nel tempo una sorte abbastanza triste anche per ciò che è la sua immagine di attrice, la sua partiera, un po' dimenticata, un po' lasciata in qualche angolo della memoria. Ma il motivo per cui la nostra associazione ha voluto dare il suo contributo alla realizzazione di questo evento è che Laura Antonelli era un'istriana, era una ragazza proveniente da Ola, ha vissuto l'esodo come tantissimi, quasi 350.000 che sono andati via dall'Istria alla fiume della Balmazia e ha avuto la vicenda del campo profughi e poi ha dato una svolta completamente diversa alla propria esistenza proprio grazie al cinema, alla scoperta di questa sua vocazione. Bernardo, se vuoi farmi tu qualche altra domanda?